L'appello dalla maggioranza, dalle opposizioni arriva a un sì, ma non incondizionato. Domani il governo riferirà in aula i 5 Stelle, cosa si aspettano? Ci aspettiamo che il governo chiarisca il reale problema che c'è per il nostro paese e per i nostri cittadini, ma soprattutto accolga le proposte che abbiamo avanzato anche ieri a Palazzo Chigi, ossia di dare subito dei fondi all'intelligence, prevedere delle misure reali per la prevenzione del radicalismo che non ci sono nel decreto Alfano.